Il portiere Pizzarri, che tocco, splendido in diagonale poi il gol di Pjanic, ma un gol straordinario dettato ancora una volta dal dio del pallone, dal dio del calcio, da questo straordinario fuoriclasse che è Francesco Totti, decimo gol di Pjanic in campionato, ancora una volta, in un'altra partita, ancora una volta veramente, mette insieme.